Venezia che passione è il nostro ma soprattutto il vostro appuntamento dove racconteremo tantissime storie che riguardano Venezia e non solo Venezia, tutta la regione Veneto. Qui a Venezia faremo vedere immagini suggestive, magiche, pittoresche e soprattutto insieme a voi scopriremo tanti aneddoti, curiosità, peculiarità e storie fantastiche. Mi raccomando seguiteci puntualmente ogni settimana con Venezia che passione. Grazie.